proseguiamo la nostra discesa lungo la costa adriatica del nostro paese ed ecco che dopo l'abruzzo approfondiamo il molise allora vediamo dove è collocato il molise perché è una regione piuttosto piccola è la seconda più piccola dopo la valle d'aosta eccolo qua lo vedete tra l'abruzzo che questa carta chiama abruzzi gli abruzzi all'antica si usa ancora oggi però è piuttosto desueto come termine si preferisce il singolare vabbè e la Puglia chiaramente è incastonato anche fra Lazio Campania ed è bagnato dal mare adriatico in particolare vediamo che abbiamo a nord l'abruzzo a sud la campagna a sud ovest il Lazio a sud est la Puglia e a nord est è bagnato dall'adriatico passando poi a una descrizione fisica di questa regione notiamo che come spesso accade appunto lungo lo stivale della nostra penisola c'è una parte più interna montuosa e una parte che digrada verso il mare in colline e leggermente anche pianure specialmente se come in questo caso la costa è tendenzialmente bassa e sabbiosa come si chiama l'appennino che passa attraverso il Molise è l'appennino Sannita che a sua volta è diviso in vari rilievi diciamo che i più importanti sono i monti della Meta sono i più consistenti sono infatti i più alti della regione superando i 2200 metri e poi per estensione i monti del Matese vedete qui che comunque abbiamo cime sopra i 2000 metri comunque ricordiamoci fanno parte dell'appennino Sannita che prende il nome da un'antica popolazione che c'era in questa regione prima dell'arrivo della civiltà romana i Sanniti appunto poi se ci spostiamo verso ovest e verso nord quindi verso nord ovest abbiamo una fascia collinare che però contrariamente a quanto spesso accade è poco fertile quindi non si presta troppo alla coltivazione è arida e caratterizzata da terreni argillosi che poco si prestano appunto alla coltivazione erano meglio per la pastorizia infatti il Molise è piuttosto noto almeno nella sua storia del passato ma ancora oggi per la pastorizia degli ovini delle pecore e poi appunto abbiamo detto dopo le colline abbiamo una leggera fascia di pianura prima della costa che appunto è bassa e sabbiosa quindi anticipata da una pianura che la precede parlando di idrografia abbiamo dei fiumi che si dividono sui due versanti alcuni infatti si tuffano nell'Adriatico altri invece come ad esempio il Volturno essendo dall'altra parte dei versanti dell'appennino Sannita si getteranno nel Tirreno dopo essere passati per la Campania poi dobbiamo osservare che ci sono due laghi principali sono entrambi di origine artificiale appunto uno lungo il Biferno e si chiama il Lago di Guardia Alfiera e poi lungo l'altro fiume, il Fortore, il Lago di Occhito ecco i fiumi di questa regione hanno un regime torrentizio infatti variano molto nella loro portata da una stagione all'altra per quanto riguarda il clima e con questo chiudiamo la parte della descrizione fisica della regione dobbiamo osservare che nella fascia più vicina al mare avremo un clima mediterraneo salendo invece sui rilievi ci spostiamo verso un clima montano parlando di geografia politica e umana dobbiamo osservare che la regione è suddivisa in due sole province Campobasso che è anche capoluogo di regione che a dispetto del nome non è per niente basso perché è uno dei capoluoghi di regione più alti in tutta Italia infatti è Campobasso come vedrete anche qui dove è collocato siamo comunque in una fascia collinare è sui 700 metri circa quindi è abbastanza alto non è l'unica in tutta Italia anche l'Aquila se ci pensiamo è molto alta però questo per dire che il nome non sempre corrisponde alla verità e Isernia l'altra provincia nella parte più interna che quindi non dà sul mare gli abitanti di questa regione quanti sono? pochi, sono circa 300.000 se pensate che la provincia di Como ne ha 600.000 vuol dire che qui in tutta la regione sono la metà degli abitanti di tutta la provincia di Como perché sono così pochi? un po' perché la regione certo non è estesa un po' perché molti sono emigrati attraverso migrazioni interne quindi restando all'interno del nostro paese nel centro, specialmente in Lazio ma soprattutto nel nord Italia per cercare occupazione, per cercare lavoro negli ultimi anni la popolazione si è un pochino stabilizzata grazie all'emigrazione dall'estero ecco, a proposito, avevamo detto nello scorso video che ora nel meridione quindi nel sud Italia vedremo un sempre minor numero di abitanti stranieri ecco qui, ad esempio, già capiamo che l'andazzo a cui andiamo incontro è questo nel Molise sono solo il 2,6% ben al di sotto degli 11 e passa che avevamo visto in Emilia-Romagna o in Umbria e comunque a circa il 9-10% delle regioni del nord Italia è importante osservare che i piccoli paesini vanno incontro a uno spopolamento questo non solo in Molise in tutta Italia, anche da noi, succede che i piccoli paesini di montagna vengono sempre più abbandonati perché la gente per lavorare deve spostarsi nelle città qui gli abitanti maggiori sono chiaramente a Campobasso e Isernia soprattutto comunque nella parte collinare rispetto alle altre regioni sulla costa c'è poca popolazione mentre nei paesini spesso si lasciano solamente le seconde case si va magari a passare il fine settimana a passare le vacanze questo però è un problema comune a tutto il mondo occidentale certo, in Molise è piuttosto evidente perché alcuni centri sono piuttosto piccoli e il lavoro in questi piccoli borghi non è molto spostiamoci sul satellite per vedere le autostrade e le strade questo che vedete contornato di rosso è il Molise chiaramente lungo la costa passa la A14 l'autostrada adriatica che abbiamo citato già con le regioni precedenti affiancata dalla omonima ferrovia e poi abbiamo lungo la valle del Biferno ecco qui la strada che porta appunto all'interno in particolar modo a Campobasso dall'autostrada e dalla costa che però appunto non è un'autostrada è una strada statale come vedete importante nella regione Molise non ci sono aeroporti mentre per quanto riguarda gli spostamenti navali il porto principale è quello di Termoli da dove partono? vedete qui la rotta tratteggiata eccola qui le imbarcazioni per le isole Tremiti che però vedremo in un altro video perché fanno parte della regione Puglia chiudiamo con un occhio all'economia in passato come abbiamo detto era molto sviluppata la pastorizia in particolar modo delle pecore e l'agricoltura era di sussistenza abbiamo detto che non è molto fertile il territorio in questa regione pertanto non si coltivava tanto da vendere poi da esportare era un'agricoltura di sussistenza giusto quello che serviva per sopravvivere ora con lo spopolamento dei piccoli borghi chiaramente non si vive più solo di piccole coltivazioni o di pochi greggi ma si sono formate chi è rimasto almeno nel settore primario delle piccole e medie aziende agricole stabili non più appunto pastori itineranti che si muovono col proprio grigio come coltivazioni invece abbiamo come prevalenza la vite e l'olivo da cui si produce poi anche il vino e l'olio ma non solo anche i cereali, i ortaggi e il tabacco passando al settore secondario dobbiamo rilevare che non ci sono imprese grandi in questa regione se non lo stabilimento di termoli della Fiat oltre a questo abbiamo delle piccole e medie imprese prevalentemente artigianali dove si produce nel settore alimentare in quello dei tessuti, della carta e dei mobili comunque la gran parte della popolazione è impiegata nel settore terziario che però in questa regione non è toccato dal turismo dov'è allora il terziario? il terziario nella Molise consiste soprattutto in pubblica amministrazione e servizi scuole, ospedali eccetera è una regione, vediamo qualche immagine per concludere che comunque presenta delle bellezze naturalistiche non da poco anche se purtroppo è spesso, non dico dimenticata ma poco considerata si pensi alla battuta che girava su internet che il Molise non esiste chiaramente esiste l'avete visto in questo video guardatelo cercate di scoprirlo perché come tutte le nostre regioni italiane merita attenzione bene per questo video è tutto ci vediamo al prossimo